Un brutto colpo per la GAM dopo che Agricola Vicentina e Gruppo Amadori hanno manifestato la volontà di terarsi indietro dall'impegno di realizzare la nuova struttura per la macellazione dei polli sul famigerato lotto 2. A far recedere il Gruppo Amadori dai suoi impegni sono stati diversi fattori, in primis le lungaggini burocratiche connesse alla pubblicazione del bando relativo al secondo lotto da parte della curatela fallimentare. Infatti la pubblicazione è avvenuta solo venerdì scorso e la prima asta pubblica è fissata per le ore 11 del 12 luglio 2019 per un importo pari a 4.850.000 euro con offerta minima a partire da 3.637.500 euro. Secondo Agricola Vicentina i tempi si sono dilatati a dismisura e non sono compatibili con le necessità né con la programmazione aziendale degli investimenti. Manterremo la nostra presenza a Boiano, ha fatto sapere Andrea Biondi, responsabile delle relazioni esterne del Gruppo Amadori, con il potenziamento dell'incubatoio e con i 60 allevatori molisani che conferiscono i polli alla nostra azienda. Per tutti i partecipanti al tavolo ministeriale è stata una doccia fredda e, pur riconoscendo valide alcune preoccupazioni del Gruppo Amadori, hanno invitato l'azienda a riflettere prima di assumere una decisione definitiva. Anche il governatore Donato Toma, presente all'incontro, ha sollecitato i rappresentanti dell'azienda a rivisitare le loro intenzioni e ha garantito celerità e sostegno da parte della regione. Ci aspettavamo un bando diverso, ha commentato Toma. Infatti esistono criticità che potrebbero provocare problemi all'azienda, ha concluso rivolgendosi direttamente al curatore fallimentare. Doccia gelata anche per i sindacati e le RSU. Il rapporto con Amadori non è chiuso, ha detto il segretario della CIS Gianni Notaro. In effetti il secondo bando, ha aggiunto, contiene elementi di criticità per l'azienda e poi ha sottolineato averlo pubblicato diversi mesi dopo. Il primo non aiuta a risolvere un grave problema sociale che coinvolge 250 famiglie, ha concluso Notaro. Sullo sfondo resta il finanziamento del secondo semestre per la Cassa Integrazione straordinaria che però potrebbe sbloccarsi al tavolo ministeriale nei prossimi giorni nella speranza che Agricola Vicentina riveda il proposito di abbandonare la filiera vicola molisana. In caso contrario, i lavoratori scenderanno sul piede di guerra e già preannunciano azioni eclatanti.